allora siamo arrivati alla penultima settimana del corso quindi cominciamo a ragionare su quelli che sono gli ultimi passaggi gli ultimi step che ci separano dalla conclusione quindi spendiamo qualche minuto a ragionare su questa cosa e poi come già diciamo così vi avevo anticipato non abbiamo più nessun argomento nuovo da trattare e quindi da adesso in avanti adesso la fine del corso faremo solamente più esercizi in vista dell'esame quindi diciamo che il programma del corso concluso avremo solo più esercizi d'esame in preparazione dell'esame allora sull'esame vi vi posso dire qualcosa in più nel senso che stiamo lavorando e questa tra oggi e domani faremo delle prove interne tra di noi per verificare la robustezza di un sistema quindi che vi permetterà di poter provare testare il codice anche in un ambiente online anche se un po' meno sofisticato del REPL a cui siamo abituati quindi durante l'esame si scriverà il codice online e sarà possibile provarlo quindi alla fine ci sarà un diciamo così un bottoncino di tipo run che vi farà vedere l'out del programma del programma ed eventuali errori che esso ha generato quindi se c'è un errore di compilazione di sintassi oppure un errore di esecuzione questo viene mostrato nella finestra sotto in modo che voi possiate andare sopra a correggere il programma fare run più volte quindi potrete durante l'esecuzione del compito fare più volte questa operazione di run e correggere il programma e poi solo alla fine consegnarlo ok quindi il run è un'operazione diciamo così che non è ancora la consegna definitiva non ci sarà purtroppo il debug questo purtroppo non siamo riusciti a trovare un sistema che permettesse di fare il debug perché di fatto lo che fa questo programma e prende questo codice lo manda ad un altro server remoto che lo fa eseguire e ritorna indietro solamente il risultato quindi non sarà possibile andare passo passo organizzeremo diciamo ci sarà un test simulazione d'esame prima della fine del corso nel prossimo diciamo nel prossimo laboratorio che è previsto che è previsto su dovrebbe essere il 7 gennaio se non è un giovedì dovremmo essere già pronti per poter fare il laboratorio sulla piattaforma se ci fossero i problemi tecnici anziché 7 sarà la settimana successiva diciamo che per permettervi di familiarizzarvi con la piattaforma d'esame abbiamo due modalità uno che a un certo punto quando sarà online sarà possibile un accesso libero quindi su una piattaforma al Politecnico ha due due sistemi diciamo così per eseguire gli esami e i quiz c'è un sistema che si chiama exercise exercise e di cui trovate il link nella vostra pagina del portale della didattica c'è un link che si chiama accedi ad exercise lì sopra cercheremo di configurare la stessa piattaforma di test con qualche esercizio di esempio ok in modo che poi possiate cominciare a entrare e provare a vedere come funziona abituarvi questo ad accesso libero poi c'è un'altra piattaforma che si chiama exam che è quella identica ma è bloccata dal dal sistema di lockdown monitor e piattaforma respondus che nel momento in cui entrate vi permette solo non vi permette più di lasciare quell'ambiente non vi permette di lasciare questa finestra quindi ci sarà un accesso libero al exercise e poi ci sarà un test una simulazione d'esame che cercheremo di fare in modalità più simili possibile quello d'esame effettivo sarà nella 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 diciamo così nell'ultima esercizio che faremo ci sarà un minimo di suggerimento del codice ma solo sulle parole chiave non siamo non sappiamo se riusciremo a attivare anche l'autocompletamento di nomi delle variabili ma sulle parole chiave mi sembra che funzioni ehm e eh l'idea è quella di avere una serie di eh per rispondere a domande di Stefano eh ci sarà una domanda eh di programmazione quindi di fatto un programma a realizzare diciamo un programma eh a spanne diciamo così di 60-80 righe no di codice mh come lunghezza quindi sono come grosso modo eh i programmi che stiamo realizzando adesso nell'ultime nell'ultima esercizio di laboratorio come tipo di lunghezza come tipo di difficoltà eh per quanto riguarda eh la documentazione eh per quanto riguarda la documentazione ehm ci sarà un foglio con le eh documentazione produrremo vi distribuiremo un foglio con le funzioni più con funzioni metodi principali quindi non dovete ricordarvi a memoria qual è il metodo per eh non so strip strip restrip eccetera ci sarà un foglio con le funzioni che usiamo normalmente eh condensate l'ho chiamato foglio poi magari di due o tre pagine no però quello è il materiale che potete consultare liberamente purtroppo nell'ambiente respondus non sarà possibile consultare altri siti web e quindi dobbiamo limitarci alle funzioni che sono scritte lì lo stiamo raffinando ovviamente ve lo mettiamo a disposizione eh già prima della fine dell'esame ehm il purtroppo il debug dobbiamo limitarci a farlo eh sollevando eccezioni e aggiungendo istruzioni di print eh purtroppo le condizioni non ci hanno permesso di trovare delle soluzioni diciamo così più complete alla capacità di programmazione ehm i criteri di valutazione mi chiede Gabriele sono principalmente eh principalmente sulla funzionalità quindi il primo il primo criterio è la funzionalità funzionalità manca un n è il fatto che il programma faccia ciò che vi abbiamo chiesto ok eh quindi che il risultato calcolato sia corretto eh non possiamo pretendere che il programma sia perfetto lo il calcolo venga fatto nel modo migliore nel modo più efficace perché chiaramente questo richiederebbe magari più tempo poter pensare sviluppare versioni diverse e testare quindi la cosa importante è che il programma funzioni bene eh correttamente eh poi per me il secondo criterio è la chiarezza codice chiaro ben organizzato non confuso non incasinato magari ecco suggerisco io eh diviso in funzioni così è più facile per voi da costruire anche da testare proprio non avendo il debug io faccio una funzione mi faccio il piccolo main che prova quella funzione lì e poi costruire quella successiva e così via ehm e eh e anche molto più facile poi da correggere per chi malauguratamente eh deve correggere poi i vostri compiti eh e poi vabbè il terzo criterio eh il terzo e quarto criterio diciamo così li metto a pari merito e sono l'efficienza e eh la gestione degli errori eh l'efficienza c'è un programma che non spreca risorse magari usa un metodo più veloce di un altro eh non abbiamo mai dato attenzione a questo aspetto durante il corso quindi è per me un criterio diciamo così che viene dopo gli altri e la gestione degli errori sarebbe un criterio molto importante eh però eh se ci siamo resi conto che se noi dovessimo controllare l'errore ad ogni singola operazione eh 90% del programma andrebbe in queste cose quindi nel testo cercheremo di essere specifici su quali tipi di errori dovete consulta eh considerare e quindi valutare e viceversa altri errori possiamo dare per scontato no spesso troverete una frasetta nei testi che dice si può assumere che il file letto sia nel formato corretto quindi non non contenga errori di formato e quindi in questo caso cerchiamo di concentrarci sulla parte più algoritmica ehm se volete commentare il codice certo che è possibile commentare il codice sicuramente comodo per voi e compito anche per noi nel commento del codice diciamo così ricade nella chiarezza del codice stesso e nella leggibilità del codice stesso ehm i punteggi massimi non me li ricordo però eh la la parte di programmazione è la stragrande maggioranza del punteggio complessivo del del dell'esame poi ci sono domandini di teoria che invece eh danno qualche punto ma adesso onestamente non me lo ricordo ve lo dico domani eh il foglio potremmo consultarlo più volte durante l'esame sì il motivo per cui vi diamo il foglio è proprio perché lo possiate consultare e non è da imparare a memoria è un foglio che potete usare durante l'esame quindi durante l'esame potrete scrivere a computer e consultare quel foglio quindi rispondo si arrabbierà un po' di volta quando vi vedrà eh consultare quel foglio ma noi vedremo che state semplicemente leggendo quello e quindi non sarà un problema eh durante l'esame eh se ci sono ambiguità nel testo possiamo scegliere noi come trattarle oppure dobbiamo chiedere come gestirle questa domanda di Alessandro eh allora eh sì ad entrambe le risposte nel senso che l'ambiguità eh sicuramente eh potete specificare come le trattare cioè scegliete voi e specificate la vostra scelta eh quindi ah questo in questo caso non era chiaro ho pensato che fosse un numero intero piuttosto che fosse una stringa questo identificatore eccetera va benissimo lo mettete come un commento nel codice e andate avanti eh nel caso di bisogno eh sarà possibile eh usare quindi per assistenza ci sarà ci dovrà essere una una virtual classroom attiva cioè all'interno voi non potete dentro l'ambiente respondus aprire un'altra finestra e diciamo così collegarvi o chattare con me e chiedermi delle cose usare slack o prendere il cellulare perché questo vi vi avrebbe flaggato con un errore eh ma dentro la piattaforma esame ci sarà un bottoncino che si chiama apri virtual classroom di supporto eh e quindi noi saremo collegati e potrete in quel momento aprire una virtual classroom quella classica no fatta con big blue button eh e poterci anche solo via chat chiedere domande chiarimenti o altro eh poi se ci sono domande di Damiano quanto tempo avremo a disposizione stiamo pensando adesso di darvi un'ora e trenta circa in totale eh circa due ore per turno con mezz'ora per inizio fine dei turni cosa di questo genere eh questo è ancora però un dato che mh dall'ora e mezza alle due ore è più tendente all'ora e mezza per tener conto del tempo di setup ingresso uscita problemi di connessione eccetera che rischiano di far perdere tempo eh e quindi vorremmo fare degli slot ogni due ore e quindi con un'ora e mezza di compito ehm il controllo dell'input mi chiede Marco allora il tipo di piattaforma che avremo non permette di fare input da tastiera e quindi si leggerà solamente da file oppure da dati che sono eh forniti all'interno del codice quindi l'istruzione input non si potrà usare perché lì non è interattivo questo questo ambiente eh quindi in questo caso non è necessario fare il controllo dell'input da tastiera eh di teoria che domande ci dobbiamo aspettare? Beh domande sulla conversione dei numeri, codifica dei numeri e domande sull'architettura dei calcolatori, memoria, bus, numero di byte e cose di questo genere. Adesso stiamo preparando anche qui una dispensina con un po' di esercizi, un po' di domande tipo eh che vi potete aspettare durante la parte di teoria. Eh ci sarà un programma e alcune domande di teoria che sono due o tre. Per domande di teoria faremo sicuramente esercizi, dedicheremo un'ora e mezza, qualcosa di questo genere, fare esercizi o vedere insieme magari le soluzioni delle domande di teoria che vi proporremo. Quindi molto probabilmente la cosa più semplice è vi pubblichiamo il testo di queste domande e poi in un'esercizio, in un'azione futura insieme vediamo, commentiamo le soluzioni. Eh alle domande di teoria si risponde sempre su pc quindi di fatto è un quiz eh una domandina online in cui bisogna a volte diciamo così selezionare la risposta giusta oppure molto probabilmente c'è una casola di testo in cui dovete scrivere il risultato dell'operazione. Insomma dice fai la somma di questi due numeri binari e sotto mi scrivi il risultato in binario. Il sistema di sorveglianza sarà 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 respondus sì sarà fatto col sistema respondus senza la seconda telecamera quindi solamente una telecamera non come il test d'ammissione che richiedeva due telecamere necessariamente. La prima telecamera è quella che vi osserva e potete sviluppare il test esattamente con l'esame di emissione. Il secondo dispositivo non è obbligatorio ma è opzionale in caso di bisogno ok? In caso di supporto. Come difficoltà è più vicino un problema di quelli per caso o quelli da svolgere durante il laboratorio? Mi chiede Emanuele e beh adesso guardiamo insieme alcuni esempi di esame che faremo insieme e quindi fatevi un'idea. È chiaro che gli esercizi di laboratorio sono messi quasi sempre in difficoltà crescente proprio perché il laboratorio è fatto per apprendere i nuovi argomenti e quindi magari prima mettiamo gli esercizi più facili in cui ci sia solamente da applicare le cose e quelli successivi magari sono un pochino più da ragionarci o da scervellarsi. Alcuni sono effettivamente difficilotti, forse non difficilotti, lunghetti, lunghi. Allora chiaramente il problema sarà il tempo, sarà la lunghezza quindi alcuni esercizi che richiedevano una soluzione molto più lunga, penso all'ultimo del labirinto che è un bel esercizio, diciamo così, dà soddisfazione quando uno arriva a finirlo però sicuramente non si può fare in un'ora e quindi sicuramente quelli sono più difficili rispetto a quelli che vi daremo. Quindi cercheremo di tarare. Teorie e pratiche sarà tutto lo stesso giorno di esame? Sì, è tutto insieme, è un esame unico, una sola volta, quindi nel giorno in cui, nel turno che vi verrà assegnato, in due ore è tutto finito, compreso il login, riconoscimento, consegna, eccetera, eccetera. La cosa del doppio dispositivo no, allora, quello che vi racconto è relativo al nostro esame. Per gli altri esami ogni docente fa ciò che vuole o può e si organizza diversamente in funzione della sua materia, in funzione delle sue esigenze, ok? Quindi io parlo solo per il nostro esame. Installare la piattaforma per svolgere l'esame, non c'è nulla, allora sì, vi conviene installare per chi non l'abbia già fatto per la parte di test di ammissione, chi è riuscito a non farlo online, è riuscito a farlo prima, conviene installare la parte, il lockdown browser, che è quello che vi permette di eseguire l'esame. Quindi sul portale della didattica c'è proprio il link, scarica il lockdown browser, chi l'avesse già scaricato controlla se ci sono degli aggiornamenti, perché se non è l'ultima versione, tende a rifiutarsi di funzionare. Con la telecamera e PC dobbiamo inquadrare il nostro volto la postazione dove scriviamo, innanzitutto chi ha il portatile e non ha scelta. L'ideale sarebbe un'inquadratura di lato, in modo che si veda sia la persona che lo schermo. Se uno ha un portatile per cui la telecamera è incorporata nel monitor e quindi non può inquadrarsi di lato, va bene così essenzialmente. Le domande di teoria non sbarrono, non c'è blocco tra domande di teoria e domande di programmazione. Cioè voi il quiz lo fate comunque tutto, avete le domande di teoria, la parte di programmazione, le fate nell'ordine che volete, spero che si possa, e poi le consegnate. Non c'è prima la formazione della teoria, poi se giusta potete passare alla programmazione. Anche perché alcuni esercizi di teoria richiedono una risposta, diciamo così, testuale e quindi non vengono corretti in automatico. Cioè non vi viene dato il punteggio subito. Li dobbiamo correggere noi alcuni esercizi. Quindi non avete subito il vuoto di teoria a metà e quindi la teoria non sbarra la programmazione. Non diamo punteggi negativi, no? Intanto non serve a niente perché basta trattare il punteggio positivo in modo opportuno e quindi è inutile avere questa operazione di terrorismo psicologico che dal punto di vista invece matematica non serve a niente. Il programma è accessibile a tutti? È molto complicato? Beh, se vogliamo, adesso faremo un programma insieme, quindi li potrete vedere. Abbiamo passato gli ultimi giorni a scambiarci tra di noi docenti, idee, tipi di esercizi, troppo facili, troppo difficili, eccetera. Quindi alcuni, ve li ho pubblicati prima, avevo dato il link, li useremo in questi giorni per fare esercizi. Vi potete rendere conto, grosso modo, del livello di difficoltà. Stiamo usando anche noi, tra di noi, per testare effettivamente il livello di difficoltà che vi proponiamo. Il concetto generale è che se riuscite a svolgere l'esercizio di laboratorio, soprattutto le ultime settimane, allora non dovreste avere problemi sull'esame. Non è un esame molto diverso da quello del laboratorio. Alla fine sono esercizi dello stesso tipo. Quindi un incognito, ovviamente, è il tempo che ci sarà, che sarà limitato, contingentato, però l'esercizio chiaramente sarà pensato tenendo conto di questo. Quindi l'idea non è quella di bocciarvi tutti, ovviamente, ma di dare la possibilità a chi, diciamo così, si è tenuto al passo con la preparazione, e quindi riesce a fare gli esercizi, di passare l'esame, diciamo, con tranquillità. Potremmo ottenere dei fogli per fare il flowchart? Sono così che prima di iscrivervi il programma nella piattaforma? Dal mio punto di vista sì. Ecco, c'è sempre il discorso della piattaforma Respondus che al limite fa una segnalazione, se voi fate delle azioni strane, segnalazioni che poi arrivano a noi, dobbiamo rivederci il frammento di video e quindi vediamo tranquillamente cosa state facendo. Tipicamente, nel caso di dubbio, quello che potete fare è, se prendete degli appunti, fate, diciamo, delle operazioni che Respondus potrebbe, diciamo, così identificare, basta che voi prendiate il foglio, lo inquadrate nella telecamera un attimo, così noi poi, quando rivediamo i video, vediamo cosa avete fatto, cosa c'è scritto su quel foglio e si toglie ogni dubbio. Cerchiamo di eliminare il fattore ansia, facciamo in modo che l'esame lo superate se sapete fare le cose, non introduciamo fattori aggiuntivi, anche se ci saranno sicuramente, soprattutto avere poi la sorveglianza fatta da una macchina anziché da una persona, peggiora le cose. Io cerco di darvi fiducia, voi cercate di non fregarmi, perché altrimenti la fiducia se ne va immediatamente a farsi friggere. Quindi abbiamo visto delle scene in alcuni appelli di tentativi di studenti di copiare in modi anche abbastanza poco accorti, fatemi dire, ecco, questa cosa qua sarebbe abbastanza deludente se succedesse. Quindi cerchiamo di non arrivare a dover discutere questo punto, ok? Ragioniamo nel merito, cerchiamo di fare un esame fatto bene. Io cerco di non mettervi troppa ansia, voi cercate di concentrarvi sull'esame e non sui modi per passarlo lateralmente. Il discorso del parlare durante l'esame, il Respondus si arrabbia, se voi dite qualcosa, magari state ragionando, ma come sempre ricordate che Respondus non vi fa l'esame, ok? Respondus vi registra e flagga una serie di momenti, tra virgolette, sospetti. Poi il docente sono io che vado a vedermi questi momenti e valuto se in quel momento effettivamente è stata compiuta un'azione normale, permessa, lecita durante l'esame, quindi magari uno parlava a voce alta per ragionare, va benissimo, che problema c'è, ok? Quindi l'esame lo facciamo noi, non lo fa la macchina, ricordatevelo sempre. Quindi alla fine c'è sempre il buon senso che cerchiamo di metterci tutti per far funzionare queste cose, anche in queste condizioni abbastanza complicate. Come vi dicevo, alcuni esempi li ho pubblicati questa mattina, abbiamo elaborati alcuni qua nella sezione esami, sezione esami della pagina del corso, e quindi se provate a scaricarli, sicuramente avete provato a scaricarli, potete cominciare a farli, a farne alcuni. Noi domani cominceremo a risolvere alcuni di questi esercizi, un po' domani e un po' chiaramente in gennaio. Allora, non sto rispondendo ai voti sui punti di teoria, perché come vi ho detto non voglio dare una risposta sbagliata, ve lo dico poi domani, perché non ricordo. Nel caso in cui voi docenti abbiate sospetto che lo studente abbia copiato, come si procede? Allora, nel caso in cui, domanda lecita, anche se spero di non averne bisogno, nel caso in cui ci siano dei problemi, di qualunque tipo, del tipo si scollega la telecamera, mi sconnetto, poi mi riconnetto tre volte perché il mio internet non funziona, eccetera, eccetera, oppure ci sono dei comportamenti strani, abbiamo dei dubbi che voi abbiate copiato, perché il rispondo si è segnalato a cose strane, o perché vediamo dei programmi troppo simili, ci siamo accorti che è impossibile che due persone facciano lo stesso programma, allora in qualunque caso, in qualunque di questi casi, quindi sia per recuperare un problema anche tecnico vostro, sia per recuperare un problema di valutazione, in un certo senso, c'è sempre la possibilità di fare poi un colloquio. Quindi c'è scritto nel regolamento esame del Politecnico, per qualunque caso il docente ha sempre la possibilità di chiedere allo studente di fare un colloquio in cui potrà spiegare, diciamo così, ciò che ha fatto e vedere insieme l'elaborato, il compito che ha consegnato. Quindi in caso di problematiche, sappiate che faremo poi un colloquio e si va poi a approfondire il dubbio che abbiamo avuto o il problema tecnico che c'è stato. Ok, non capisco Girolamo cosa dice con la Volte. Suavo colloquio non è un esame, il colloquio non è un esame in più, no, non è un orale aggiuntivo, è semplicemente un approfondimento, un chiarimento di ciò che è successo durante lo scritto. Ecco, l'esame di questo compito è un esame scritto. Ok? L'orale serve per compensare alcuni problemi che ci possono essere durante lo scritto proprio perché si svolge online, si svolge in remoto e non vi abbiamo sotto gli occhi in quel momento. Ok? Quindi non c'è l'orale per prendere un punto in più o per prendere due punti in meno. Ma questo non esiste. Il foglio con le funzioni lo possiamo tenere fisico? Sì, sì, sarà un foglio che vi potete stampare, potete tenere e consultare sul tavolo, sul foglio, in forma cartacea. Ok? Allora, questo è il quadro generale. Quando, adesso, in questi giorni, come vi dicevo, faremo dei testi interni nostri sulla piattaforma e poi vi metteremo qualche esercizio a disposizione. Gli esercizi li stiamo già dando, però anche a disposizione direttamente nella piattaforma exam, così li potete provare anche la modalità di funzionamento. Direi che da adesso in avanti, gli esercizi che faremo, faremo apposta a non usare il debug, la funzionalità del debug, perché questa non ci sarà nell'esame e quindi quando andremo alla caccia degli errori lo faremo usando delle print per riuscire ad orientarci nel codice. Ok. Non credo di avere altri punti da trattare se non ci sono altre domande. Possiamo invece, a questo punto, chiudere la chiacchierata generale sull'esame. La riprendiamo ancora sicuramente a piccoli passi man mano che ci avviciniamo. Ah no, ecco, una cosa che volevo dirvi è che noi abbiamo, avremo ancora il calendario, allora, noi avremo ancora lezioni del 7 gennaio in cui c'è ancora laboratorio e spero, se tutto funziona, di fare questo laboratorio direttamente sul portale con Respondus in modo che sia una simulazione il più possibile fedele a quello che ci sarà nell'esame. Il laboratorio, se il 7 non si potesse fare, questa cosa qua la facciamo slittare al 14. E qua vi verrà proposto un esercizio del tipo di quelli dell'esame. Tra l'altro questa prova di laboratorio che si farà sarà il più possibile, o meglio, cercheremo di farla anche per valutare la risposta del sistema al carico. Quindi vi chiederò proprio di collegarvi tutti a un'ora ben definita e così vediamo se il sistema regge il numero di persone contemporanee che ci saranno durante l'esame. Così se ci fossero dei problemi tecnici li scopriamo prima e non li scopriamo al giorno dell'esame che sarebbe ovviamente molto brutto. Quindi o il 7 o il 14 facciamo questa operazione, io spero il 7, ma se per caso ci fossero, purtroppo anche i tecnici, diciamo così, fanno qualche giorno di festa e quindi se non ci riuscissimo proprio il 7, che è il giorno un pochino troppo ravvicinato, lo faremo il 14. In ogni caso, non avremo altri laboratori di quelli tradizionali, ma il giovedì che rimane libero, in cui non faremo questa simulazione d'esame, useremo le ore comunque come assistenza, come consulenza. Quindi in quelle ore lì potrete venire a chiedere, per quanto riguarda ad esempio gli esercizi d'esame che vi proponiamo, oppure altre domande, altri esercizi, le possiamo fare come sempre come consulenza libera, diciamo così, durante l'orario. Quindi in quelle ore, vi daremo poi le ore in cui saremo a disposizione per poter rispondere o sulla chat o anche, diciamo, con chiamate consulenze individuali, uno a uno, o di piccoli gruppi in video chat. Quindi non sono lezioni aggiuntive, ma sono occasioni per poterci chiarire. Nelle ore del laboratorio, nelle quali non si svolgerà la simulazione d'esame. Questo per gennaio. Ok. Passiamo allora alla parte, diciamo così, di programmazione. Fatemi separare il file di registrazione.